Tragedia in A14, si ferma a cambiare una gomma e viene travolto. La vittima è il giuliesi Giovanni Corradetti, il 57enne stazionava sulla corsia di emergenza quando è stato centrato da un Fiat Doblò. Colli al metauro, latte adulterato scattano le misure cautelari. Nei guai cinque dipendenti di fattorie marchigiane, frode in edilizia salgono a 12 gli indagati dalla procura di Ascoli Piceno. Al via la bassa stagione con l'incognita pioggia, alberghi pieni nella Riviera delle Palme, nel Fermano-Bagnini-Nazione fino al 15 di settembre. Il servizio di salvataggio verrà garantito. Paralimpiadi, Assunta, Lignante ed Argento nel lancio del disco a Parigi. La Samb torna sul campo sintetico del Ciarrocchi in vista del match di Ascoli. Fermana preso bianchimano. Ben ritrovati insieme con una nuova edizione del nostro TG Mark. In apertura la tragedia di oggi, in A14, con un uomo di 57 anni, abruzzese, che si era fermato in corsia di emergenza per cambiare una gomma, è stato travolto e ucciso da un altro mezzo in transito. Il punto nel servizio. Si era fermato con l'auto in A14 perché aveva forato una gomma. È sceso dalla vettura quando, lungo la corsia di emergenza, all'improvviso, un furgone gli è piombato addosso, uccidendolo. Tragedia nella mattinata di mercoledì 3 settembre, in A14, lungo il tratto Maceratese. La vittima è Giovanni Corradetti, 57enne agente di commercio, nato a Roseto degli Abruzzi e residente a Giulianova. L'incidente mortale si è verificato verso le 8.30 in direzione nord al chilometro 257, tra le uscite di Civita Nova Marche e Loreto Porto Recanati. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del drammatico sinistro da una prima ricostruzione, il 57enne era sceso dal mezzo e si apprestava al cambio del pneumatico quando è stato travolto da un furgone in transito un autocarro Fiat Doblò. Un impatto terribile che non ha lasciato scampo all'automobilista. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata con ambulanze 118, ma ogni tentativo da parte dei sanitari di rianimare il 57enne è risultato vano, tanto che i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente, al vaglio della polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio, riunta sul posto per i rilievi e la gestione del traffico, che ha inevitabilmente subito rallentamenti dopo l'incidente in una settimana ancora caratterizzata dai rientri post-vacanze. La notizia della morte di Coradetti si è presto diffusa, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano e stimavano. L'agente di commercio era molto conosciuto a Giulianova, anche per la sua passione per il calcio aveva giocato in passato tra i dilettanti. Il cadavere del 57enne è stato ricomposto e trasportato presso l'obitorio dell'ospedale di Civitanova, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Prorogato di altri 12 mesi lo stato di emergenza per l'alluvione, che nel settembre del 2022 ha colpito il territorio marchigiano, lo fa sapere la Regione Marche. È un'azione fondamentale per proseguire nell'opera di ricostruzione, ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli, peraltro anche commissario per l'alluvione. Il governo ha stanziato 400 milioni di euro che ci stanno permettendo di procedere nelle opere di pulizia e manutenzione straordinaria, ha continuato il governatore. Torniamo a parlare dell'inchiesta sul latte adulterato che ha coinvolto lo stabilimento fattorie marchigiane di Colli al Metauro. Il GIP del Tribunale di Pesaro ha emesso 5 misure cautelari interdittive nei confronti di 5 dipendenti del sito produttivo nella provincia di Pesaro Urbino. Il punto nel servizio di Thomas del Bianco. I carabinieri del NAS di Ancona hanno eseguito 5 misure cautelari personali interdittive emesse dal GIP del Tribunale di Pesaro per altrettanti dipendenti dello stabilimento fattorie marchigiane di Colli al Metauro. Non potranno esercitare attività professionale in attività del settore lattiero caseario. L'accusa è di aver adulterato latte e prodotti caseari dello stabilimento nel quale avevano un ruolo di responsabilità. Tutto era nato dall'esposto di due ex dipendenti al quale aveva fatto seguito lo scorso 22 aprile la perquisizione accoglie al Metauro. In asse gli ispettori ministeriali avevano sequestrato circa 90 tonnellate di latte e 110 tonnellate di prodotti lattiero caseari oltre a circa 2,5 tonnellate di sostanze sofisticanti. Ciò da caustica e acqua ossigenata. A seguire l'apertura dell'inchiesta a carico di tre società e nove persone per accuse che vanno dalla frode in commercio alla vendita di sostanze contraffatte e adulterate. Numerosi campionamenti effettuati nel corso delle indagini di latte e altri prodotti sui quali sono state condotte analisi microbiologiche. Perquisizioni sono state eseguite a carico degli indagati ai quali sono stati sequestrati telefonini e dispositivi informatici poi sottoposti ad analisi forensi da parte di consulenti. Lo scorso 9 maggio presso il Tribunale di Pesaro davanti al pubblico ministero era stato affidato l'incarico al consulente della Procura per effettuare la copia dei dati contenuti nei cellulari e negli altri dispositivi sequestrati agli indagati. In stretta collaborazione con l'Ispettorato della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di Roma è in corso l'analisi delle memorie dei supporti informatici. Nel corso dell'estate è ripartita l'attività dello stabilimento Fattorie Marchigiane. Lo stop alla produzione era stato deciso in precedenza, a inizio maggio, dal Consiglio d'Amministrazione della Società Agricola controllata da Trevalli Copperlat per consentire le attività di verifica ed eventuale bonifica degli impianti di produzione e dell'intera struttura. Un pregiudicato scolano è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dopo un turbolento episodio avvenuto ad Ascoli nel quartiere di Porta Maggiore. I carabinieri sono intervenuti dopo una denuncia ricevuta da un cittadino che ha riferito che l'uomo lo aveva minacciato con una pistola durante la notte. I militari dell'arma insieme alla polizia hanno raggiunto l'uomo in un bar dove l'ascolano si è rifiutato di collaborare negando le accuse. Tornato a casa ha avuto uno scatto dire e ha minacciato i carabinieri con un coltello da pane aggredendo uno di loro. I militari hanno faticato a immobilizzarlo ma alla fine lo hanno ammanettato. Successivamente è stato portato in caserma e arrestato con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Restiamo nel Piceno. Frode in edilizia con il bonus 110%. Sale a 12 il numero degli indagati dalla procura di Ascoli. Nei guai, imprenditori edili tra Marche ed Abruzzo. Cantieri mai aperti per lavori di ristrutturazione tra Ascoli e San Benedetto per i quali sono state richieste e ottenute agevolazioni fiscali. È salito a 12 il numero delle persone indagate dalla procura di Ascoli Piceno nell'ambito dell'inchiesta riguardante fenomeni di frode sul cosiddetto bonus ristrutturazioni facciate e bonus 110% introdotti nell'edilizia dal decreto rilancio. A febbraio 2023 la Guardia di Finanza aveva eseguito due misure cautelari in carcere, una degli arresti domiciliari e un'altra sul divieto di esercizio della professione, sequestrando un materiale cartaceo e informatico. Nei giorni scorsi la procura Piceno ha inviato gli avvisi di conclusione delle indagini ed è emerso che altre otto persone sono state indagate per aver emesso fatture per forniture di attrezzature e prestazione d'opera mai eseguiti. Gli indagati risiedono e operano a cavallo tra le province di Ascoli Piceno e Teramo. La maggior parte dei cantieri fittizi hanno riguardato condomini di San Benedetto del Tronto, Grotta Mare, Monsampolo del Tronto, Monte Prandone, Martinsicuro in provincia di Teramo. Ipotizzati a bariutitoli reati di truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche, autoriciclaggio, falsità ideologica e incertificati commessa da persone esercenti, un servizio di pubblica necessità, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebite, compensazioni, evasione imposte IVA e Ires. In carcere a febbraio 2023 erano finiti un amministratore di condominio e un imprenditore edile. Ai domiciliari, una professionista che ha curato la progettazione e la direzione dei lavori. Anche attraverso intercettazioni telefoniche, i finanzieri hanno accertato il ripetuto ricorso a false operazioni di ristrutturazione edilizie e rifacimento delle facciate condominali, la predisposizione di documentazione e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, allo scopo di maturare indebitamente crediti di imposta per importi milionari, da monetizzare attraverso successive operazioni di cessione comunicate all'Agenzia delle Entrate. Dal monitoraggio degli edifici, che sarebbero stati oggetto di lavori di ristrutturazione, già conclusi sulla carta, è emersa invece la materiale inesistenza dell'esecuzione degli stessi lavori. Oltre 190.000 studenti delle Marche torneranno sui banchi di scuola il prossimo 11 settembre. C'è attesa e fermento per le famiglie che stanno acquistando i libri di testo e il materiale per affrontare il prossimo anno scolastico 2024-2025. Il servizio è di Teodora Stefanelli. Vacanze estive decisamente agli sgocceri, le Marche, gli studenti marchigiani torneranno sui banchi di scuola dall'11 settembre, genitori, daffarati, ansiosi, stanno prendendo gli ultimi materiali insieme ai loro ragazzi e poi si ritornerà. Anche chi commercia libri usati e nuovi sta in qualche modo avendo dei giorni di fuoco. Siamo andati a sentire qual è la situazione. C'è da dire che molto, molto lavoro viene portato via alle librerie, dai centri commerciali che utilizzano il libro più come prodotto civetta che come impegno vero e proprio su quel fronte. In genere sono abbastanza ansiosi, nel senso che se si lamentano se è un libro in ritardo, però più delle volte non è colpa del libraio, neanche del distributore. È l'editore che alla fine è arrivato tardi, forse perché non sa esattamente il numero delle adozioni che si rendono necessarie, però insomma alla fine poi tutto si esistema. Non solo libri scolastici, anche tanta narrativa per questi ragazzi. Cosa si è scelto quest'estate 2024? Allora, le insegnanti sia delle elementari che delle medie superiori hanno fatto una buonissima ricerca e quindi hanno proposto ai ragazzi sia libri classici che libri nuovi, moderni, quindi c'è stata tanta differenziazione. I ragazzi diciamo che si dovevano scegliere, sono andati molto sui manga, che ormai sono diventati un po' un appunto di diamante per gli lettori già dalle elementari e poi le ragazze, è ritornato l'amore, quindi siamo nei romance puri, un po' di fantasy, ma ormai le storie d'amore hanno preso sopravvento tra le ragazze. Anche quest'anno sul bilancio delle famiglie italiane pesa l'acquisto di libri e materiali scolastici per alunni e studenti. L'offerma il Codacons che fornisce, come ogni anno, i dati ufficiali sul caro scuola e le spese che dovranno affrontare i genitori in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico, con punte di oltre 1.300 euro per studente. Solo nella nostra regione sono oltre 190.000 i ragazzi che torneranno con le penne in mano, oltre 20.000 i docenti in cattedra senza considerare il personale di sostegno e gli impiegati all'interno dei vari plessi dal nord al sud della regione. L'anno scolastico 2024-2025 nelle Marche si preannuncia un periodo di grandi possibilità. La scuola marchigiana si conferma un punto di riferimento per l'istruzione di qualità pronta ad affrontare nuove sfide e a costruire un futuro migliore per le nuove generazioni. A sottolineare il concetto, la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Marche, Donatella D'Amico. Siamo riusciti a chiudere più della metà dei famosi concorsi a cattedra chiamati PNRR, perché fanno parte di un'azione finanziata con i fondi PNRR. Quindi i nostri concorsi conclusi dal giorno 16 permetteranno l'immissione e la nomina di nuovi docenti, quindi altri docenti che andranno a supportare le nostre classi, ad aiutare i nostri alunni nel loro percorso. Sicuramente un'attenzione, come sappiamo, particolare va ai docenti di sostegno, che partiranno al 100% dei costi con personale specializzato e questo è una chicca di qualità per quest'anno. È stato montato il primo pezzo del ponte ciclopedonale sul fiume Cesano, che collegherà Senigallia a Marotta Mondolfo. Stamattina sopra il luogo per l'assessore regionale Baldelli, insieme ai sindaci dei due comuni, per visionare il cantiere all'opera e l'opera dovrebbe essere conclusa entro la fine dell'anno. Dare un'alternativa ai ciclisti, evitando la statale 16, garantire la sicurezza della mobilità debole, uno sviluppo economico e turistico del territorio costiero, con i vari tasselli della ciclovia adriatica. Sono questi gli obiettivi alla base di interventi infrastrutturali, come quello del ponte ciclopedonale sul fiume Cesano. È iniziato il montaggio dei conci, che daranno all'asse di collegamento tra Senigallia e Marotta Mondolfo la sua fisionomia. Cantiere già iniziato alcuni mesi fa, un anno di lavori, conclusione entro fine 2024. È il ponte più lungo della ciclovia adriatica, che realizza la regione Marche. I cantieri sono in opera, questo tra Marotta, Mondolfo e Senigallia, quello a Civitanova e Porto Sant'Elpedio, e l'ultimo sul Tronto, che unisce due regioni, Marche e Labruzzo. Quello dove siamo oggi, vengono montati i conci del ponte, quindi siamo quasi alla fine del cantiere, rappresenta il ponte più lungo, ma rappresenta anche un'opera d'arte, nelle opere d'arte che stiamo realizzando lungo la ciclovia adriatica, che con l'aggiunta a Acquaroli si concluderà, perché oltre agli investimenti che abbiamo realizzato e stiamo realizzando sui ponti, che sono le opere più complesse della ciclovia adriatica, realizzeremo anche i chilometri mancanti della ciclovia adriatica, sia in provincia di Pessero Urbino che in quella d'Ancona, che proprio in questi giorni vedranno poi partire i cantieri in provincia di Fermo, proprio per i tratti di ciclovia adriatica mancanti. A sopralluogo per il Varo del Primo Concio, presenti insieme alla Regione Marche, anche i sindaci dei due comuni che verranno collegati sul Cesano dalla viabilità ciclopedonale. Sì, è un'opera estremamente importante, soprattutto per il turismo, perché questo è un grande passo per una ciclovia che è già presente nei due comuni, ma che fondamentalmente rappresenta una cesura, quindi praticamente un collegamento che è estremamente vitale per poter promuovere appunto i nostri territori. Quello che abbiamo peraltro vissuto a Senigallia è abbastanza emblematico. Opere come queste infrastrutturali sopra i fiumi devono essere fatte secondo tutti i crismi e con grande cautela, per cui è un'opera importante da un punto di vista economico che comunque dovrebbe rappresentare anche una sicurezza per il nostro territorio. Questo è fondamentale per noi. Un'opera di fondamentale importanza per rendere ancora più attrattivi i nostri comuni costieri e i nostri comuni turistici per valorizzare appunto il nostro territorio dal punto di vista turistico e migliorare anche l'immagine della nostra comunità e dare maggiori servizi. In questi anni come amministrazione comunale stiamo lavorando molto sulla riqualificazione del lungomare, abbiamo investito molto per migliorare la zona mare della città e sicuramente questo ponte, il ponte ciclopedonale sul Cesano, che è un sogno che diventerà realtà per la nostra comunità, sarà un'infrastruttura fondamentale, un ulteriore tassello per migliorare il nostro territorio. La pagina di politica Fratelli d'Italia presenta in conferenza stampa l'annuale festa tricolore, una tre giorni organizzata dal partito dal 6 all'8 settembre. Quest'anno verrà ospitata nella cornice di Ascoli Piceno. Nella sede regionale di Fratelli d'Italia d'Ancona è stata presentata la festa tricolore, un appuntamento indetto dal partito per rilanciare l'attività di governo a livello regionale, che vedrà la partecipazione di numerosi esponenti di spicco tra ministri e rappresentanti nazionali. In questo che è un appuntamento classico del nostro partito, della destra italiana, vogliamo raccontare insieme a tanti amministratori locali, ma anche attraverso la presenza di figure importanti a livello nazionale, questi primi quattro anni di buon governo delle Marche, guidato da Francesco Acquaroli. Parleremo di sanità, lo faremo insieme al ministro Schillaci, ma anche di infrastrutture, con il vice ministro Pignami, di cultura, con il ministro San Giuliano, ma anche di Europa e di questo nuovo rapporto che abbiamo costruito in questa tornata elettorale con l'elezione di un euro parlamentare di Fratelli d'Italia, ma anche con la vice presidente, l'onorevole Sberna, neoeletta al Parlamento europeo. Vogliamo raccontare questi quattro anni con uno sguardo al futuro per rilanciare ancora, insieme ovviamente al presidente Acquaroli, cui spetta la chiusura di questi tre giorni, il tanto che è stato fatto e quella che è la nostra visione per fare ancora le Marche più grandi, più belle, e farle uscire da questo isolamento al quale i governi precedenti l'avevano confinata. Beh, diciamo, innanzitutto, mi preme ringraziare tutti i volontari, i coordinatori provinciali, tutta la struttura del partito che si è adoperata per questa iniziativa importante. oltre i ministri e i viceministi e i sottosegretari che abbiamo è importante anche lo sguardo all'Europa con il primo vice presidente della storia di centrodestra, di destra direi, che è l'amica Antonella Sberna al Parlamento europeo, dove possiamo parlare di prospettive legate all'Europa e quello magari da il protagonismo che ha sempre di più la regione Marche, grazie al presidente Acquaroli, che poi farà la grande chiusura di domenica proprio per spiegare quello che abbiamo fatto in questi quattro anni di buon governo. A fare da cornice alla tre giorni la città di Ascoli Piceno, che dal 6 all'8 settembre darà spazio a incontri e approfondimenti sull'attività svolta nei quattro anni alla guida della regione e spunti di riflessione sul futuro. Ascoli è ormai un importante laboratorio politico e ospiterà quest'anno la festa tricolore di Fratelli Italia, quindi ci saranno tre giornate di dialoghi dove attraverso il confronto possiamo anche avanzare nuove proposte per migliorare l'equilibrio e soprattutto la proposta politica ad Ascoli, così ospitando ministri, sottosegretari, parlamentari. C'è anche un dibattito tra sindaci, tra amministratori, c'è un panel dedicato a gioventù nazionale e poi ovviamente c'è la chiusura con il ministro San Giuliano dove attraverso la cultura possiamo anche continuare a far crescere l'economia delle Marche. I sommozzatori e il nucleo nautico dei Vigili del Fuoco in collaborazione con il personale veterinario dell'Ast sono intervenuti nei pressi dello scoglio della Vera per soccorrere una capra ferita. L'animale è stato immobilizzato e trasportato al porto di Ancona con il gommone dei Vigili del Fuoco. È stata davvero una corsa contro il tempo quella fatta dai balneari per reperire il personale di salvataggio e prolungare la stagione a mare perché i bagnini sono quasi tutti studenti e l'11 settembre dovranno tornare sui banchi di scuola ma nel Fermano il servizio sarà garantito almeno fino al 15 settembre. Sentiamo. Il prolungamento della stagione balneare nelle Marche fino al 30 settembre se va nella direzione di una stagione turistica sempre più ampia ha dall'altro canto creato non pochi problemi sul versante della sicurezza bagnanti con un servizio da parte dei bagnini tutto da rimodulare. Questa direttiva nasce dalle ordinanze delle varie capitanerie o delegazioni l'indicazione sicuramente è arrivata da livelli superiori non so se ammiraiato più probabilmente da Roma nasce secondo noi perché non abbiamo niente in mano da una cattiva o errate interpretazioni dei regolamenti delle norme regionali sulla balneabilità delle acque sulla stagione balneare ci siamo ritrovati comunque a tre giorni dalla fine del servizio una nuova ordinanza dove il servizio veniva prolungato fino al 29 e poi ci sono state delle interlocuzioni con le varie delegazioni o capitanerie dove devo dire effettivamente sono stati assolutamente comprensivi se sono fatti interpreti delle nostre difficoltà perché poi la difficoltà nasce al di fuori del lato del fatto economico nasce anche dal reperimento di chi presta questo servizio perché comunque i bagnini di salvataggio sono bagnini specializzati che hanno fatto dei corsi hanno sostituito degli esami quindi non si trovano per strada ecco quindi e noi lì chi ci presta il servizio lo pesca nell'ambito scolastico universitario l'ordinanza emanata dalla capitaneria di Porto rende obbligatoria la figura del bagnino fino al 30 settembre e prevede che dal 9 al 22 settembre ci sia una torretta di salvataggio attiva ogni 300 metri nei giorni feriali fino al venerdì mentre il sabato e la domenica i bagnini siano uno ogni 150 metri come lo standard di stagione c'è stato un accordo sull'indicazione della capitaneria di Porto con i balneari e la cooperativa del salvataggio per rimettere i bagnini in costazione per una settimana in più pieno organico e per i feriali successivi di settembre un bagnino ogni 300 metri quindi ogni 2 mentre le domeniche ritorna il servizio integrale questo fino al 15 poi dopo il 15 ci sarà un nuovo accordo perché chi vuole rimanere aperto fino al 29 dovrà comunque proseguire col servizio come vi siete organizzati con i vostri ragazzi? abbiamo ricontattato tutti i bagnini che hanno lavorato con noi che ne sono diciamo per la zona di Porto San Giorgio fermo 80 più altri 20 che hanno lavorato nei campeggi nella zona sud quindi c'è un centinaio di chiamate cercare di ripristinare un po' il numero adatto per continuare e per questa settimana ci siamo riusciti per le prossime stiamo lavorando insomma un grande lavoro per coprire il salvataggio perché i bagnini sono per lo più studenti e prevalentemente di scuola superiore quindi devono tornare sui banchi già dall'11 settembre quelli che lavorano con me siamo un 85% sono studenti quasi totalità dei superiori più alcuni universitari quindi sono un po' in difficoltà in questo momento per lavorare però vediamo di risolvere questo chiaramente non è il momento delle polemiche siamo riusciti finiamo la stagione però chiaramente come chiudiamo tutti gli ombrelloni a ottobre dovremmo rimetterci seduti con la regione con le capitanerie e trovare un punto di caduta perché così non è possibile anche in seguito perché poi il problema si riproporrà a maggio quindi dobbiamo metterci subito al lavoro per trovare un punto d'incontro che sia sostenibile per tutti e in bassa stagione alberghi pieni della Rivera delle Palme si annuncia dunque un settembre con tanta gente almeno fino a metà mese e anche spiaggia e molti scelgono la soluzione con tariffe più basse in mare e sole anche più belli di luglio ed agosto almeno questa è la speranza nonostante l'annuncio di diverse perturbazioni in arrivo il caldo annunciato aiuterà in un settembre che terrà fede alle promesse della cosiddetta bassa stagione tiene la riviera San Benedettese con hotel pieni a Portodascoli stabilimenti ancora al lavoro fino a metà mese risolto il problema per il servizio di salvataggio con l'accordo fino al 22 settembre tra amministrazioni comunali Capitaneria di Porto e associazione di categoria per monitorare il litorale con gli addetti al servizio reperiti per il prosieguo della stagione nella riviera delle Palme si prospettano ancora tre settimane di full dopo un bimestre quello di luglio e agosto che tutto sommato ha tenuto bene una stagione che ha fatto contenti titolari di hotel e ristoratori con l'afflusso delle famiglie sostituito da quello collaudato degli over 60 veri e propri protagonisti di questa finestra di mercato ma anche di giovani coppie che hanno trovato il modo di ottenere tariffe più convenienti ma servizi mare e condizioni climatiche equivalenti se non addirittura migliori che in piena estate molto positiva secondo me abbiamo lavorato secondo le poi le aspettative e le presenze più o meno della scorsa stagione sia un po' di meno a giugno poi luglio-agosto nella norma e anche adesso a settembre nella normalità per me è andata bene per settembre cosa vi aspettate? per settembre io dovrei lavorare fino al giorno 22 23 quindi ho finito bene pure la stagione e anche in spiaggia le cose sono andate bene con ombrelloni aperti e una stagione ancora da vivere nonostante un calo fisiologico ma che andrà avanti in questo settembre è andata così e così non benissimo come ci aspettavamo insomma c'è stata una decrescita del 30% delle persone quindi non c'erano tante persone per settembre cosa vi aspettate? e beh fin quando il tempo regge noi ci siamo allora un'estate che è andata come? molto bene molto bene c'è stata molta gente comunque diciamo che non ci lamentiamo dai adesso il tempo vediamo come andrà esatto ho dato un po' di pioggia in questi giorni speriamo bene speriamo che si savi tutto quando si risolve mare e bar esatto esatto mare e bar sinceramente noi non possiamo lamentarci facciamo il nostro poi abbiamo lo chef Marco Bruni che soddisfa tutti i nostri clienti il tempo ci ha sostenuto quindi tutto sommato ho sentito diverse lamentelle anche un calo del turismo però noi non ce ne siamo accorti è andata è andata bene come stagione non ci lamentiamo la gente è rimasta quasi tutta soddisfatta facciamo un bel lavoro ho il merito dello staff pure che ci supporta e sopporta mettiamola così musica in sottofondo c'è tutto diciamo esatto esatto va benissimo e niente con questo passo e chiudo l'iniziativa della capitale della cultura itinerante ha fatto tappa nel comune di Monte Labate in provincia di Pesaro Urbino una settimana ricca di eventi che si è conclusa con una festa nel peschetto tra musica ricordi e degustazioni vediamo il servizio di Thomas Delbianco si è conclusa con una festa nel peschetto tra musica ricordi e ghiotte e degustazioni la settimana della cultura di Monte Labate le buone notti della cultura questo è il nome della serie di eventi allestiti nel corso dei sette giorni che hanno visto il comune della provincia di Pesaro Urbino protagonista di 50x50 capitali al quadrato si stanchezza e soddisfazione per questa settimana della cultura riuscita magnificamente dico io perché comunque l'impegno c'è stato abbiamo elaborato questo programma che fosse un programma per tutti insomma che coinvolgesse un po' tutte le nostre realtà tutte le nostre associazioni e raccontasse la nostra cultura che cos'è cultura e che cosa fa cultura a Monte Labate molto soddisfatti perché in realtà tutte le sette giornate della settimana della cultura di Monte Labate le buone notti della cultura sono state un successo di pubblico di qualità culturale musica poesia letteratura cinema e rievocazioni storiche soprattutto sulle tracce della memoria della seconda guerra mondiale con la linea gotica austria nuova con il castello e la storia di Monte Labate con l'abbadia di Apsella con Borgo Marcellino e il suo cimitero di guerra ma ancora il peschetto fra la valle di Monte Labate insomma tanti luoghi tante scoperte e anche dei borghi storici come Farneto dove abbiamo dedicato una serata a Don Ciro Scarlatti tutta sulla poesia la festa di chiusura si è tenuta nel peschetto dell'azienda agricola Pedini è venuto il sindaco mi ha proposto questo evento e sinceramente mi ha dato piacere anche perché così la gente vede direttamente i frutti sulla pianta si fanno anche un'idea perché magari qualcuno va a capire da dove vengono le pesche per dire mi ha dato piacere sinceramente di questo evento il concerto della band Il diavolo e l'acqua santa ha fatto ballare le tante persone che sono a corse per l'evento di chiusura della settimana della cultura di Montelabate prima del via alla musica il perito agrario Marcello Guerra ha intrattenuto i presenti con un excursus sulla storia delle pesche la pesca di Montelabate è resa speciale dalle microclime esistenti in zona e dal terreni che sono esistenti in zona in più da quando abbiamo ottenuto la certificazione per la produzione integrata in pratica è il metodo di allevamento ma in particolare e c'è nello statuto del bollino della pesca di Montelabate in particolare le nostre pesche dal momento della raccolta al momento dell'acquisto di un qualsiasi cliente non devono passare più di 24 ore le ha preso la macchinetta fotografica ha scattato sette foto e il siparietto è andato in scena sul red carpet del festival del cinema di Venezia tra l'attore Giorgio Clune e la fotografa San Benedettese Cinzia Camela un video che è diventato virale che mostra la star di Hollywood passare dalla parte dei fotografi per poi prendere la camera di Camela lei stessa ha condiviso il filmato sulla sua pagina Instagram ottenendo tantissimi like che condivisioni una giornata memorabile quella che ha visto protagonisti Giorgio Clune insieme a Brad Pitt i due attori dal fascino intramontabile si sono concessi simpaticamente ai fotografi scherzando tra loro e con gli addetti ai lavori e questa era l'ultima notizia del nostro TG Mark qualche secondo e ci ritroveremo insieme con il TG Sport